colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi di iscrivervi al canale aiutarmi a crescere attivare la campanellina e vi ricordo il nuovo contest sul canale ragazzi il contest road to 15k ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest troverete tutti i miei contatti contatti del team glitch e tutto il resto detto questo vai con la intro ehi ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti su il canale io sono Maxi e questo è un nuovo video contest ragazzi allora come vedete ragazzi qui abbiamo la topolona la topolona bella topolona il mio personaggio ragazzi e niente allora è giunta l'ora ragazzi finalmente di fare questo video contest per l'account genesis ragazzi per l'account genesis che abbiamo lavorato in settimana scorsa insomma più o meno una settimana fa cioè questo account ragazzi ebbene sì dopo una bella plastichetta alla fine dopo un bell'interventino di chirurgo plastico abbiamo anche rimodernato diciamo il personaggio l'aspetto del personaggio come avete visto siamo a rango 120 ragazzi e abbiamo 51 milioni 51 milioni contanti pronti da spendere ragazzi pronti da spendere e non sono pochi non sono assolutamente pochi allora premetto che questo account andrà regalato quindi noi del team glitch abbiamo diciamo creato ognuno a suo modo un completo come meglio gli piaceva quindi chi vincerà questo account troverà all'interno dei completi un account un completo che si chiamerà maxi milk un completo che si chiamerà any gamer un completo che si chiamerà dark glitch e un completo che si chiamerà a 100 corrispettivamente corrispettivamente fatti da ognuno di noi quindi ognuno di noi ha fatto quei completi e ce n'è anche uno di super mario ragazzi di super mario e il boss che sono state due persone che comunque ci hanno aiutato moltissimo nell'ambito di questa settimana a cercare di potenziare questo diciamo questo profilo a cercare di arricchire a cercare di aiutarci nella nostra scalata ai soldi ragazzi vi ricordate il primo giorno che questo personaggio non aveva una tira non aveva un cazzo e ora andiamo a vedere le statistiche ragazzi andiamo a vedere le statistiche vedete che abbiamo fatto veramente un botto di soldi qui si da 72 milioni 376 mila 464 dollari ragazzi entrate stimate spese ne abbiamo spesi una trentina ragazzi quindi significa che comunque abbiamo fatto bei soldoni da notare anche le statistiche dei giorni di gioco ragazzi noi si abbiamo impiegato una settimana per fare l'account ma una settimana scarsa perché abbiamo giocato due ore al giorno un giorno per la connessione un giorno per un'altra cosa abbiamo sempre avuto problemi quindi effettivamente le ore di gioco di questo personaggio qui andiamo a parlare di giorni di gioco che sono tre giorni e poche ore comunque tornate indietro e vedete tutto quello che abbiamo fatto nelle statistiche qui ragazzi abbiamo comprato tutto abbiamo comprato abbiamo comprato l'arc bandito nell'arena war abbiamo comprato il garage del night e questi garage ragazzi sono alcuni pieni con delle issi poi ci sono delle auto ragazzi sportive che abbiamo selezionato noi e comprato noi a nostro gusto che magari potete modificare nella base operativa ragazzi ci sono tutti i veicoli della base operativa ovvero c'è non bog cangiali jetpack rc come cazzo si chiama insomma l'anti sommossa c'è parecchia roba ragazzi c'è parecchia roba come state vedendo ci sono anche 50 deluxe da vendere ragazzi quindi fatevi due conti a 2 milioni a macchina solamente queste 50 deluxe ci frutteranno la bellezza di 100 milioni non sono 2 milioni a macchina ma saranno molti di più ragazzi quindi già avremo i nostri 150 milioni più ci sono tutte le auto che comunque si possono vendere e che sono da vendere ragazzi quindi dovrete fare attenzione al blocco giornaliero prima di vendere queste auto e ovviamente metterete una targa personalizzata a questo personaggio allora come ho già detto avrà un ammontare di capitale ragazzi intorno a 200 milioni ma io ho detto intorno ma sono molti di più ragazzi mettiamoci a 300 milioni dai per andare bene 300 milioni di valore tra veicoli e tutto il resto e in più ragazzi la vera chicca abbiamo comprato il deposito veicolo speciali perché molti di voi piacciono i veicoli speciali e abbiamo comprato tutti i veicoli speciali quindi abbiamo comprato la ruiner abbiamo comprato il phantom wage abbiamo comprato parecchia robetta ragazzi quindi avrete solamente da entrare giocare spendere e divertirvi ragazzi perché comunque non avete più nulla da sbloccare avete il rambo 120 ragazzi certo le armi sono fondamentali abbiamo tutte le armi quindi ce la possiamo divertire poi abbiamo le abilità abbiamo tutto ragazzi l'unica cosa che non abbiamo è la statistica del radio allora il primo requisito ragazzi il primo requisito è questo mettete tutte le vostre attività del vostro canale youtube pubbliche in maniera che noi possiamo verificare ok ragazzi noi io parlo noi del team glitch possiamo verificare chi si iscrive ai nostri canali chi ha lasciato like a questo video perché voi dovete lasciare il like e condividere questo video ma questi saranno altri requisiti che vedremo in seguito e quindi voi dovrete avere il canale pubblico se non sapete come si fa ad avere il canale pubblico ragazzi sul mio canale trovate un tutorial quindi è abbastanza semplice andate nella sessione tutorial nella playlist tutorial e c'è un tutorial oppure cercate come mettere il canale pubblico poi il secondo requisito ragazzi iscrivetevi al canale e a tutti i canali del team glitch li trovate qui in alto a destra e nel commento in primo piano perché si noi andremo a vedere quando voi avrete lasciato il commento andremo a vedere se sarete iscritti nei corrispettivi canali del team glitch perché ragazzi i canali del team glitch perché tutto il team glitch ha collaborato a questo progetto chi direttamente chi indirettamente quindi vi chiediamo un minimo di collaborazione ragazzi magari di passare su tutti i canali che sono in descrizione o nella scheda qui in alto a destra o alla fine del video ragazzi ok troverete anche alla fine del video i canali però per chi non riuscisse ad aprire la scheda vada sotto nei commenti in primo piano e troverà tutto quanto diciamo il papiere di canali a cui dovrai iscriversi lasciate un like a questo video ragazzi spaccate veramente quel cazzo di bottone del like ragazzi mi raccomando perché il like è un requisito ragazzi oltre l'iscrizione dovete lasciare un like perché altrimenti se avrete diciamo si messo l'hashtag per partecipare non avete lasciato un like non verrete selezionati questo qui è uno dei diciamo degli inconvenienti quindi mi raccomando ragazzi dovete fare attenzione a tutti quanti i requisiti di cui vi sto parlando quindi in gamba ragazzi e fate attenzione a quello che leggete a schermo perché io si ve lo sto dicendo però lo vedete anche a schermo quindi requisito numero 4 ragazzi dovete commentare per vincere dovete commentare con uno di questi quattro hashtag magari se siete non so iscritti di centurion commentate con centurion se siete iscritti di dark glitch commentate con dark glitch basta che è quel tipo di hashtag che vi ho lasciato nel video se sarà un hashtag diverso tipo hashtag partecipo come fa tanta gente perché non ascolta i video e quindi prende e scrive e partecipa alla cazzo non verrà selezionato quindi detto questo ragazzi faccio gli ultimi ringraziamenti fate bene attenzione a cosa c'è scritto qui perché altrimenti non vincerete faccio gli ultimi ringraziamenti ringrazio tutto quanto il team glitch ringrazio boss anche se i ringraziamenti sono passati a inizio video però li faccio anche io verbalmente ringrazio come ho già detto boss 82 e ringrazio mario alias super mario bros per la loro collaborazione un saluto buona fortuna a tutti ciao